10 aprile 2019 d'Inviksha Palestina, Francia, il governo usa per la prima volta marcatori chimici e nanoparticelle sui manifestanti a loro insaputa, gilet e gialli e passanti sono diventati cavie del primo esperimento al mondo sugli esseri umani con nanoparticelle e i marcatori chimici il cui effetto sugli organismi biologici è ancora molto poco conosciuto. 21 marzo 2019 per il governo francese si tratta di innocui prodotti di marcatura chimica codificati che impregnano la pelle, i capelli e i vestiti delle persone interessate per un periodo di tempo variabile da diverse settimane a decenni. Ufficialmente questa imprecisata tecnologia non è mai stata utilizzata contro degli esseri umani. Tuttavia, accurate informazioni raccolte da alcuni professionisti della sicurezza indicano che durante l'ect 18esimo dei gilet e gialli, cannoni ad acqua e gas contenenti i marcatori di DNA e nanoparticelle sono stati usati contro i manifestanti senza alcun preavviso. Oltre ai marcatori chimici e alle nanoparticelle, i cui effetti sulla salute umana sono molto poco conosciuti, l'aggiunta di nuove sostanze psicotropea i gas ucs assomiglia a una vera e propria sperimentazione su larga scala di nuove tecniche di controllo sociale simili a quelle delle peggiori distopie di film e romanzi di fantascienza. Queste armi del DNA, sviluppate in Gran Bretagna e ampiamente utilizzate in Israele contengono sostanze chimiche e biologiche la cui nocività per la salute umana è stata volutamente ignorata, specialmente in Israele dove detenuti palestinesi dichiarano di aver contratto vari tipi di cancro in seguito all'etichettatura del loro DNA o all'uso di altre tecniche di controllo che coinvolgono nanoparticelle responsabili di aver danneggiato il materiale genetico delle celluli dei loro organismi. Il governo francese ha ammesso di avere utilizzato marcatori chimici sui manifestanti a titolo di esperimento durante le dimostrazioni del primo maggio 2018. Ma la gente doveva essere avvertita che sarebbe stata oggetto di esperimenti proibiti. Per i difensori di tali procedimenti, i prodotti di etichettatura del DNA o dell'RNA non rappresentano alcun pericolo, ma le loro dichiarazioni non sono supportate da alcuna evidenza scientifica. Si sa che l'impatto della maggior parte di sostanze biochimiche utilizzate da o sull'uomo può essere rilevato solo dopo anni poiché la maggior parte degli studi non positivi è sistematicamente censurata dalle grandi aziende dell'industria chimica. L'uso di sostanze psicotiche per il controllo di manifestazioni rivolte urbane si è rivelato molto più pericoloso sul terreno. Nel 2014 le forze dell'ordine in Ucraina hanno sperimentato bombe a gas contenenti LSD, fornite da una compagnia israeliana, sui manifestanti a Chieve il risultato fu catastrofico. I manifestanti presi di mira diventarono molto più agitati e violenti e alcuni cominciarono ad avere forti convulsioni prima di gettarsi a corpo morto sui veicoli della polizia, richiedendo l'uso di munizioni vere per fermarli. In Brasile, la polizia ha sperimentato già nel 2016 sostanze chimiche che avrebbero dovuto calmare i rivoltosi, ma l'esperimento andò storto e la polizia finì per ridurre le violenze usando di armi da guerra. In realtà, la sostanza utilizzata era un farmaco neurotossico molto pericoloso che aveva un impatto diretto sul sistema nervoso. In Israele, alcuni dei gas utilizzati contro i manifestanti contengono interferenti endocrini, sostanze allucinogene e LSD al fine di rendere più violenti i manifestanti con l'effetto cercato di giustificare l'uso di cecchini e colpi ad altissima velocità, proiettili in lega speciale che possono avere una velocità iniziale di 1200 metri al secondo. I gas utilizzati in Francia per il mantenimento dell'ordine comprendono il CS2, clorbenzilide nemalonitrile, un tempo degli irritanti ma recentemente neurotossici, che possono alterare profondamente le capacità di percezione e coscienza. Altri tipi di nanoparticelle sono sempre più utilizzati per mantenere l'ordine, ma il loro uso rimane segreto perché persino gli stessi agenti di polizia che li usano non sempre conoscono la natura dell'arma non letale che usano. Con la marcatura chimica degli individui, le nostre società hanno compiuto un ulteriore passo avanti nel controllo totalitario dell'individuo, fino alle radici dei suoi capelli e al suo DNA. Inviksha Palestina sostiene edizioni Q. traduzione, simonetta lambertini in viksha palestina.org